mario ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono inizio e oggi siamo su piante contro i zombie ho un nuovo programma per registrare ho un nuovo programma per registrare ragazzi quindi oggi andremo a ok iniziamo con l'avventura andiamo avanti almeno quante eravamo arrivati a livello 3-4 oggi ci andiamo a provare le nuove piante no non andiamo a provare le nuove piante che sarà la questa cosa roba qui e praticamente praticamente abbiamo sbloccato i mini games ma ne ho dimenticato di dirvelo che non c'è nemmeno a giocare oggi però perchè non abbiamo tempo perchè oggi dobbiamo fare almeno due partite però oggi faremo una sola partita perchè ragazzi io oggi sarò un po' più quello del solito andiamo a sceglierci girassoni anzi prendiamoci questa con questo con questo con questo con questo poi c'è una scelta poi non quello la sfida non la faremo oggi quindi allora prendiamo quella e lo mettiamo lì prendiamoci i soli e mettiamo un altro di la sole poi andremo sempre più forte adesso è apparsa col ticcio brutto e ci mettiamo questo che ora gli sparerà e morirà ovviamente ok mori male ecco un altro ce n'è già un altro aspettate prima fate morire l'altro e non c'è ancora allora c'è 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 due castagne eeee non lo vado allora lì 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 abbiamo piazzato un'altra pianta perchè passo appena un altro zonbico ecco mettiamo un altro sunflower perchè ci servono Allora andiamo a metterci l'altro Sunflower No No Un altro Vi prego Questa è una cattiva persona Ok grazie Che fortuna Che fortuna Ragazzi l'unica cosa brutta Però di questo programma Per registrare sul computer E che Non ci sarà il volume L'audio del gioco Ok mettiamoci questo Tac Niente non è tappoccato Siamo forniti bene per adesso Oh no 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 Siamo veloci Sono più veloci Prima erano più lenti Ah un altro Ah aiuto 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 Mi sento male aiuto Togli Perché Togli Metti quello Metti Ecco qua Ora mi sento bene Mi sono accorto oggi che ho il naso screpolato Non so perché Allora Allora ok Allora Ci abbiamo un sacco di cose Quindi credo che andremo bene per tutto il resto Del Partita Sulla testa oggi faremo una sola partita Ma come vi ripeto Era solo per provare il nuovo programma Per vedere se andava fluido Come si Eh oh oh Eccolo Eccolo Guardi Non dico Un casco Oh no Non saltate No Ah no è morto Ok Allora è arrivato Quello Oh Però raga Vanno veramente veloci Vanno più veloci del solito Eh No noi Quello là Appena arriva a muore E ci dà anche una moneta Grazie Allora Mettiamo quello lì Così siamo protetti al massimo Con questi Mettiamo altri girasoli Così almeno Eh Stiamo meglio Adesso mettiamo questo Di qua Perché c'è questo qua E ci prendiamo Questa Così lo rallentiamo E ci abbiamo più tempo Anche perché Ho scoperto ragazzi Che quelli che vanno Da Che vengono dall'acqua Sono più lenti Come potete vedere Eh Mettiamo anche questo Qui Facciamo una fila da tre Ok Ok Stanca Stanigata malissima Stavo volendo Va bene Scusatemi Scommitando di quadratura E allora Non mi mori male Ma smetto Ok Allora Tac tac E ora Prendiamo Questo Ci lo mettiamo qui Abbiamo completato Tutta la fila E siamo ancora Alla seconda Orda E siamo già Sei minuti Uh È apparso il tizio Brutto È apparso il tizio Bruttissimo Che gli ha mostrato A migliore C'è più Odio puro Eh Ok Ci sta facendo Un po' difficile Guardate Quelle zonglie Lì No Ci sono due subacquei Metti Metti Questo Ecco Siamo a posto Siamo a posto Ragazzi Siamo a posto Ora Mettiamo I soli Pure lì Visto che ci siamo Ehm E ora Sì Adesso Proprio A posto A posto Tutto a posto Ah no No Me ne ho dimenticato Ok 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 Sto sistemato Ma non è Gli assondenti Suo coi però Sono un po' più veloci Eh Devo dirvelo Quindi Ehm Ok Stiamo Stiamo Facendo Casino Tantissimo C'ho Guardate Ragazzi 150 Fiori Fiori Wow Ragazzi Abbiamo Veramente Tantissimo Ragazzi Sono Veramente Euforico Ci abbiamo Tantissime Tantissime Soli Quanta roba Quanta roba Quanta roba Abbiamo Wow Wow No Non c'è arrivato Non c'è arrivato Non c'è arrivato Allora ragazzi siamo iper protetti quindi non credo stiamo per arrivare al 2000 e ce lo faremo ragazzi ce lo faremo ragazzi ce lo 925 chi se ne frega dell'orda 975 2050 Record assoluto 2100 Record assoluto Quanti zombie sono arrivati Metti 3 Tom Triple kill Triple kill Tanta roba Ok lì ci sono due zombie Che fanno Un po' fastidio Ok no 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 Ok 2700 2625 Chiave Abbiamo una chiave Trovate una chiave Abbiamo trovato una chiave Andiamo sullo shop È un negozio Ah Bella sta cosa Bellissima Mi compro questo subito Perché è molto meglio Perché praticamente è il tagliaerba in acqua Perché il tagliaerba quando vai in acqua Subito dopo un coso si affonda Invece questo no Fa tutto il coso e poi risale Non penso di fare altri livelli per oggi Ce lo compriamo Non penso di fare altri livelli per oggi Credo che per oggi sia tutto Va bene ragazzi Sapete che posso dirvi Che oggi possiamo finire qui Se vi è piaciuto Dove vi è piaciuto Qua sotto Commentate Iscrivetevi E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi